I consiglieri regionali del PD Silvio Palucci, Dino Pepe, Antonio Blasiole e Pierpaolo Petrucci in collaborazione con la Conferenza delle Democratiche d'Abruzzo hanno presentato un disegno di legge che rappresenta una prima misura sulla prevenzione. Si tratta di uno strumento per ristituzionalizzare e potenziare l'educazione contro violenza e disparità di genere. Una proposta in sei articoli che mette in campo una serie di attori. I dati parlano chiaro. Nel 2022 in Italia ci sono stati 120 femminicidi. Nei primi sette mesi del 2023 le donne uccise sono state 70. saranno coinvolte istituzioni scolastiche, universitarie e formative. Ovviamente la consigliera di parità. La produzione legislativa è un importante strumento di cambiamento ma serve anche una presa di coscienza trasversale, un'alleanza tra donne e uomini. Allora molto importante strutturate insieme al gruppo regionale del PD e alla Conferenza delle Donne del PD una misura, un disegno di legge per la prevenzione che mette in campo davvero una misura importante in collaborazione con le scuole, le università. Di che cosa si tratta? Di educazione ovviamente alla parità tra i sessi per prevenire le violenze sempre più diffuse. Si contano purtroppo 70 femminicidi dall'inizio del 2023 ma è solo la punta dell'iceberg purtroppo di violenze sempre più diffuse. Da questo punto di vista si tratta di una misura per la prima volta che vuole prevenire il fenomeno facendo educazione ma anche formazione al corpo docenti e lo si fa con una collaborazione diffusa in testa alla regione, l'ufficio scolastico regionale, le università, la commissione e consigliera di parità.